La campagna di sensibilizzazione sull'uso dei mezzi pubblici E' fuo biglietto, guaiò Giriamo la città sui pullman o sui tram Dove condividiamo i soliti tram tram I mezzi pubblici sono un bene comune Messi a disposizione da questa regione Facciamo tutti a gara come con le gocarts Ma chi timbra prima con la sua bipcard Chi vuole farne parte il biglietto dovrà comprare Se no il controllore gli farà un bel verbale Questo argomento non è solo regionale Il fatto di fare furbi è un problema nazionale Non possiamo fare noi la solida romanzina A chi sale su con la sua carrozzina Facciamo sempre finta quando sale l'anziano Non ci preoccupiamo di dargli una mano E non vediamo mai i pepisti quando scrivono Frasi senza senso tipo Gesù sta arrivando Prima di salire procurati il biglietto Procurati il biglietto Non portati bene, non pretendere rispetto Dai una mano e non fare il fighetto Alzati in piedi, fai sedere il vecchietto Hai capito? Sulla GTT Prima di salire procurati il biglietto Con portati bene, non pretendere rispetto Dai una mano e non fare il fighetto Alzati in piedi, fai sedere il vecchietto Oh, vai va troce, fai sedere il vecchietto Cl attorney viene in piedi, fai sedere il shrugati il würde Perdev siguiente Grazie a tutti